Qualsiasi cosa facessi era in proiezione delle Olimpiadi. Tutto andava bene per Rio e il mio sogno sembrava più tangibile che mai. E poi è arrivato. È arrivato il momento più brutto della mia vita. Ho sentito il sostegno di tutti gli italiani. Questa energia mi fa andare avanti. Mi fa andare oltre il mio dolore. Mi fa restare concentrato. L'allenamento. Lavorare duro. Farò di tutto perché porti risultati. Niente mi fermerà a Tokyo. Niente. Insegui il tuo sogno. Non fermarti mai.